buongiorno broci oggi vediamo se l'inquadratura è un po' meglio a vedere se il Cic è pronto ma dopo il Cic non si vede lungo mare nord andiamo incontro al Cic che sta aspettando da Filippo oggi è freschetto guarda i rossini tutto guardato è freschetto? non mi preoccupate 15 giardi che fa sì che io mi fermi qui le donne a volte ci sono scontrolli forse è un voglia di farla qui la litina delle giare ecco Cic è che sono calma azionata Cic puoi salutare i tuoi broci che sono calma all'interno in polvere e vai che io sto qui a speddo barri scalpitando sui miei sandali da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro tra i francesi che si incazzano e giornali che si svolazzano two terms c'è un po' di vento a paia la campagna c'è una luna all'aro in fondo table no ti ho provato però per adesso no Siamo dietro l'orso, adesso, col chic che sta facendo l'andatura, io ovviamente in scia e che sono invalido. Non ci crede più in giù ormai, no no è vero. Bello strappettino dopo l'orso, perché tutti la porta qua e gli viene dando per le riprese. Io, piegandomi, basta nel senso... Cioè se ne porti in mezzo, non è troppo. Devo mettermi sulle spalline, devo fare delle prove. Siamo sempre noi, non ci conosci? No, siccome non ho sentito ancora una mia stima, dello chic, ecco ecco, sta per ria, sta per ria al mastoboco. Piano, piano. Quando vai qui fai scioltezza. Madonna, sorpresso. Oggi sgambatella orso e corso. Orso e corso. Eccoci qua. Ho lasciato il chic a casetta. Abbiamo sognato un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.